con la macchina fotografica amici di HDblog Nokia 930 proviamo a vedere questa salita troppo fango ragazzi stiamo al meeting jeep siamo su una jeep questo è il nostro driver Enrico Varini fantastico in fuoristrada ma qua è veramente cattiva questa salita guardatela stabilizzatore di immagine ottico ci riproviamo ci riproviamo ci riproviamo vorrebbe dai l'ultima l'ultima dai che ce la frutti ti filmo? fermo provane una vai basta che la tienne lì proviamo l'ultima ok oh non fatti la figura di merda dai cavolo cavolo non direi cazzo non sta bene dai poi magari si sente anche la bocca sottovoce porca troia se non salite adesso vedi adesso prendo una bella rincorsa vuoi provare? no grazie amici di HDblog non ce l'abbiamo fatta sarà per la prossima grazie ciao ciao No, 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 no